Buongiorno agli amici di Rete Tribu Italia, sono Luca Giuliano e lui è Antonio Fiorillo, Rossella Lufano, la proprietaria del Garganta, il ristorante in Avellino. Perché siamo qui, Antonio? Noi siamo qui ad Avellino, questo meraviglioso ristorante di Garganta, perché stiamo effettuando i casting per questa web series di otto puntate che si girerà all'interno della struttura. Sono venute persone veramente da tutta Italia, c'è stata una grande partecipazione e noi sappiamo che gli amici della televisione, soprattutto Carmine Velosi che non viene da tanto tempo, ci stanno dando una mano per quanto riguarda la comunicazione e la pubblicità di questo progetto. Insieme a Rossella e insieme anche a Danilo, che però non vediamo mai, Danilo è sempre impegnato, sempre sfuggente, con la regia di Modestino Diena faremo questo progetto. E voi lo guarderete sul web, su YouTube, su questo canale del ristorante Garganta e aspettiamo ancora gente che venga a fare i casting. Quindi tantissimi casting da tutta Italia. C'è stata una partecipazione tra i mail e Facebook e i messenger, veramente tante tante persone che vogliono partecipare a questo progetto, ma soprattutto che erano curiose di vedere la struttura, perché non perché io voglio essere di parte, ma qui venite a mangiare che si mangia molto bene. Ma non siete a me venite a Garganta, è facile, a Via Dalmatia, numero 34, lo possiamo sì, e anche il cinema partegno, il cinema partegno e il carcere borbonico. Meglio il cinema che il carcere. Noi vi salutiamo da Rete TV Italia, Antonio Fiorillo. Vi aspettiamo a Garganta e sulla serie per farci due risate in fine. Com'è il titolo della serie? Il titolo della serie è che poi poteva essere Garganta. Ciao Carmine. Lo possiamo dire il tuo ruolo, che è bellissimo. Io faccio un cuoco, basta, appunto, non diciamo, faccio il cuoco, cosa posso fare? Cuoco, cuoco, cuoco. Ciao Dari di Rete TV Italia, ciao a tutti. Buon pomeriggio. Grazie.